Ed eccoci tornati alla stanza del tè, stiamo studiando insieme la realizzazione di una maschera fatta direttamente sul viso con il trucco ed è un lavoro bellissimo che stai facendo Allora una cosa che ti volevo chiedere, prima abbiamo visto brillantini, paillettes, tutto applicato con molta cura e ricordiamo con la cera da capelli sotto